Oggi prepariamo insieme le piadine allo yogurt, facili, veloci e buonissime. Vedete come sono belle e come si piegano facilmente? Veniamo a noi, quindi versiamo in una ciotola la farina, il sale, il lievito istantaneo per troppe salate e lo yogurt. Aggiungiamo anche due cucchiai di olio extravergine di oliva e due. Mescoliamo bene il tutto. Aggiungiamo anche l'acqua, poca alla volta. E continuiamo ad impastare. La quantità di acqua dipenderà dal tipo di farina utilizzata. Quindi impastiamo prima in ciotola e poi ci spostiamo sul piano di lavoro. Impastiamo energicamente fino a quando il composto non risulterà liscio ed omogeneo. Come vedete non serve neanche aggiungere farina sul piano di lavoro. Ecco fatto. Ci sono voluti esattamente 30 secondi. Ho tenuto il panetto, lo copriamo e lo lasciamo riposare 5 minuti. Trascorso il tempo di riposo lo riprendiamo e lo dividiamo in 4. Realizziamo delle palline, belle tonde tonde. Ecco le copriamo, aspettiamo ancora 5 minuti e quindi spolverizziamo il piano di lavoro con farina e stendiamo le piadine. Visto quanto è semplice, facile, veloce e come si stendono bene. Eccoli qui. Riscaldiamo una padella e andiamo a cuocere le piadine. Ci vorranno più o meno 2 minuti per lato. Quando la base è cotta andiamo a girare la piadina e proseguiamo con la cottura. Eccola qui. Quando sono cotte le trasferiamo sul piatto. E continuiamo a cuocere le altre piadine. Sempre 2 minuti per lato e quando la base è cotta le andiamo a rigirare. Semplicissimo. E trasferiamo sul piatto. Così. Procediamo fino a cuocere tutte le piadine. Eccoli qui pronte. Le nostre piadine sono pronte per essere farcite e gustate. Ciao, alla prossima!